grassa scusatemi che sono grassa mi sono ingrassata ok così vanno troppo vabbè va bene va bene ciao siamo alle notte 5 perfetto cominciamo come al solito metteremo la web proprio sopra l'ora così moriremo qui ne faccio un po' qui e poi cica è buona in cena da un po' qui qua si non impicciolita leggero niente fredbear family diner che c'è non mi vuoi non c'è un po' non c'è un po' non c'è un po' non c'è un po' che faccia c'è Lollo Lollo faccia tipo Lollo cosa c'è un po' cos'è un po' c'è un po' è un po' un po' check non c'è qu' texts perché non te l'aspettavo stai aspettando si però va bene Scusate Anna Questa volta non faremo entrare Balloon e Boy Perché è Balloon e Boy Quindi non è meglio entrare Balloon e Boy Già Già minza Guarda è quella È proprio Concentrazione di livelli massimi Oh no Già Bonni Park Oh no No Il Clash Non so No Fatti dei Pirates Pirates Pozzi Stupidenza di un pozzo E ovviamente Balloon e Boy Non è andato a funzionare E io lascio malattica risata Scusate 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 Si 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 Non Balloon e Boy Balloon e Boy Sto Stiamo Sto Sto intelligenza eccolo qui è l'una di notri no, non ne vuoi ok non so sicuramente se era proprio lì ma se n'è andato se era lì se non era lì devo spiegare tutto no, non ne vuoi ok, non è qua a quanto pare non ne vuoi ok, non ho paura ah, Bonnie no 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 oh, sì I'm alive no, non è un boigno chi è? chi sei? Bonnie Foxy ma è vero perché tutti i posti sono davanti ai fozzi quindi non riesco a farlo di darlo chicken and chicken ma è zia non è vero di anno notturno non è vero di anno notturno Foxy devo illuminarti si deve illuminare d'immenso no, c'è freddo a questo è freddo no, no, no non è vero di anno non è vero di anno diciamo dove è oh, cieca ah, bani dei bani ah, bani dei bani chicken and chicken no, c'è la fozzi perché non è l'olio di menso ma che è bello? perché non c'è freddo di menso cos'è? la poesia di oh c'è la poesia sembra che non è l'olio di menso non c'è lo spianto di quello infatti come c'è? perché di mattina perfetto fozzi 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 no, non c'è la faccio non ce la faccio fozzi 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 è difficile questa notte va bene? fozzi fozzi vado moltissimo a un gioco per un modo spreddisk quando sono leggermente inesperto perché dice un sacco di gioco insieme? fozzi fozzi no, mingol 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 non c'è solo un gioco di musica ma di giustelletta ma di giustelletta momento di calma calma moments ma non ne puoi ma non ne puoi ma non ne puoi ciasci no, si è bucatto ho pensato di essere dai no, si non ci manca nemmeno no, si è bucatto il gioco no, si è bucatto il gioco non ti è stupido carione Chica! Chica del Chica! Non ti fa nulla allora Ma hai fatto due pappe, ti caic, ti caic, ti caic Oh, Freddy Fazbo, spicco Ma hai detto, buoni, non so come devo prendere la faccia però Non c'è bisogno, non c'è bisogno, non c'è bisogno, non c'è bisogno Non c'è bisogno che vadovi a vedere la tua bomba Pagine, come Freddy! Mingle! Carion! Carion, si caricava il carion Fotti, fozzi, 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 che spara flash in faccia, che spara flash in faccia. Ok. Non vedo che cosa sta succedendo, non vedo. Non ne vuoi. Ok. Quanto dura stanotte? Quanto dura questa notte? Sì, è un pochino. Sì, è un pochino. È un pochino. Ciao. È finito il gioco. Finito? Sì, era un pochino. Coppì. Coppì. Yeah, Dunno. Fizzera 100 dollari 50. Ho finito il gioco? Ho finito il gioco? Ok, che si scrive? And, welcome to the family. Ma è già finito? fast better mind, ho donato 100 dollari finito ok, che quant'è il video? notte 6 10 minuti e 13 hai il mio video tutti i video che vi è nella galleria? no oggi si bene, potrei provare a farlo notte 6 provaci solo ok che c'è? no, non mi inizio ok, che non sento rumore dopo di metà l'ultri facciamo meglio domingol domingol, quanto stai bello cosa ci faccio qui? come è chiuso? perché io sono in un posto chiuso? non dovete spiegare il senso perché mi avete chiuso qui dentro? pazzi, sono allora, sono fuso insieme agli animatronici dentro in questo posto Anna! non c'è? 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 comunque ha detto che praticamente è sparito una tuta gialla una tuta gialla? secondo me lo sai perché hai visto i video? no, perché si è cadito yellow, sweet, roba del genere non c'è? non c'è? cosa? no, no, no vittanudi ancora? vittuta, vittuta vuol dire si, lo so Ah! Poni dei padiii! Non si, ma si amacchiamo la quinta notte questa. Non mi preoccupo. Lui è chiudo. Così, guarda. Non sono più danneggio. Scusa. Sai con me. Oggi cazzo! Giusto, su! Con te fendi! Scusa! 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 Perché c'è Golden Freddy? Ah! Golden Freddy! Scusa! 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 Focci foci foci focci foci Take a the chicken Chechol Non non ci sono Non lo so, non lo so, non lo voglio sapere, ma se lo finisci? Che pezzi, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, questa notte Golden Freddy, dove, dove, erano nel corridoio Golden Freddy? Ma Golden Freddy? Non me l'ho spettata... Comunque, il studio sarà finito. E' rimasto però l'infatto. Ok, questo video si può concludere qui e noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti, ciao!